Presidente il nuovo corso inizia in qualche modo dall'Abruzzo possiamo dire perché il Giro d'Italia parte dall'Abruzzo Siamo molto orgogliosi di questa partenza del Giro d'Italia Ecco anche la Meloni lo possiamo dire anche a lei, sta arrivando Ah il cielo dei poeti un po' follati questi Cosa ti ho chiesto? Infatti dei nomi sono state fatte Io finito grazie Era uno, poi sono passati e hanno messo 42 40